Grazie a tutti. Abbiamo fatto una bella partita, potevate ottenere sicuramente molto di più, sia segnando qualche occasione palese che avete avuto sotto rete, ma anche a causa di un po' di sfortuna c'era, a mio avviso, anche un calcio d'un cuore per farlo proprio su di te. Diciamo che abbiamo sbagliato veramente tante occasioni, come hai detto l'arbitro si è girato quando i falli erano a favore nostro, quindi ha complicato oltre a poco la situazione. Questa sconfitta vi fa rimanere a quota 3 punti, l'accesso alla Champions League, all'Actia League, rimane comunque alla vostra portata, anche se con le partite che ci saranno domani rischiate di perdere un po' di terreno. Non importa, vedremo di andare meglio nelle prossime, andiamo a fare qualcosa nelle... Congratulazioni, bocca al luto per la prossima. Quindi aggiornata a gruppo A, l'Eurosport si impone 4-1 sul Gareventi, qui con me il portiere dell'Eurosport è trovato. Ivan, siete riusciti a prenderveli questi tre punti con un po' di fatica, gli avversari hanno sprecato molto, forse è un episodio sospetto nella vostra area di rigore. Diciamo che è la fortuna che ha aiutato, voi comunque non avete demeritato, tra l'altro è stato salvato anche un pallonetto sulla linea, pallonetto di cozza, strepitoso. Allora, purtroppo c'è da dire che oggi abbiamo giocato per la larga parte della partita in serie, perché Marco Amico si è fatto male, lui è il nostro centauro che è in attacco, cerca di scondare sia la porta che il portiere, di solito. Dobbiamo spiegare un po' la morfologia del campo ancora, perché lui parte, mette la prima e non si vedeva più. Però è una bella squadra, non ci conosciamo ancora molto bene perché molti di noi non si sono mai visti prima. Oggi mancavano Bonnici e un altro ragazzo che sono molto bravi tecnicamente, soprattutto a tirare il calcio di punizione, però abbiamo un guardo, un cozza che con la loro tecnica fanno sicuramente la differenza, anche con la loro velocità. In difesa siamo molto fisici, quindi la squadra c'è e speriamo di riuscire ad andare più avanti possibile. Cozza e guardo l'hanno fatto oggi particolarmente, la differenza. In ogni caso questa vittoria vi porta a 7 punti, vi proietta al quarto posto insieme all'orangi team e vi fa guadagnare altri tre pulli sui fenomenonze che affronterete fra qualche giornata. Autentico scontro diretto per il sesto posto. Sì, ci sono tutte queste squadre che non si sono costituite solamente nel breve periodo, però ci sono da tanto tempo. Noi siamo una squadra nuova che potrebbe dare fastidio a queste grandi che di solito si impongono in questi tornei. Speriamo bene. Avrete modo di affermarmi. Congratulazioni, in bocca al lupo per la prossima.